Chiusa la partita delle liste si parte con la campagna elettorale. Sarà una settimana di presentazione dei candidati, debutto questa mattina per la compagine dei popolari e di fare democratico che corrono insieme a sostegno di De Luca in tutte e cinque le province. In campo l'ex direttore generale del Moscati, il medico Pino Rosato, Anna Nazzaro, vice sindaco di Atripalda, il sindaco di Flumeri, Angelo Lanza e Navicella Mattia. Alla presentazione anche l'ex deputato Giuseppe De Mita e Ciriaco De Mita che se la prende con il proliferare delle liste. La campagna elettorale ha mutato queste ragioni, c'è la somma dei candidati, nessuno spiega perché si candidino. Insomma il collegio è fatto da quattro candidati e quelli sono il soggetto dialogante con la pubblica opinione. Se mettiamo insieme i candidati di tutte le liste credo che la gente fuga. Intanto tiene banco il caso Petitto, l'ex presidente del consiglio comunale di Avellino dopo una lunga battaglia per un posto nel PD si candida nella lista di davvero che sarà presentata nei prossimi giorni. Petitto si dice sicuro che il seggio ad Avellino scatterà e che lui sarà eletto. Poi conferma che non lascerà il PD anziché la battaglia per il rinnovamento generazionale nel partito irpino è solo rinviata dopo le regionali. Tanto che Petitto invita i simpatizzanti Demma a votare per la sua lista. Contro Di Mè tuona atti vili e inspiegabili. Il riferimento è a D'Amelio e Petracca che erano pronti a ritirarsi se il PD avesse dato il via libera a Petitto. Grazie. 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 Grazie.